Il segretario generale del SAP, sindacato autonomo di polizia Gianni Tonelli, assieme ad alcuni colleghi, inizia da oggi uno sciopero della fame per solidarietà ai tre poliziotti del commissariato di Cesena accusati di maltrattamenti durante un controllo, effettuato il 9 aprile 2010 a Cesena e a cui si riferiscono queste immagini. Allestito anche dal sindacato un gazebo accanto alla prefettura di Forlì. Lo sciopero della fame durerà fino al giorno dell'udienza preliminare davanti al GUP di Forlì fissata per martedì 14 febbraio. Lo scopo non è quello di vendere la nostra verità sul caso Narducci ma quello di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica affinché si faccia un proprio giudizio su ciò che è accaduto. Siccome i processi mediatici che sono stati condannati anche all'apertura dell'anno giudiziario dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione hanno la capacità di forviare la verità e i processi anche e allora noi siamo qui proprio per promuovere la verità ai fini di giustizia. L'operazione è verità e giustizia. Quello che cerchiamo di fare è proprio questo vogliamo avvicinare la cittadinanza tutta non soltanto la forlivese ma del paese attorno a questi processi contro gli operatori delle forze di giustizia.